Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul mio canale, secondo video di giornata il primo video è uscito oggi pomeriggio, vi ho parlato un po' del scambio ormai fatto tra Politano e Spinazzola con Politano per entrare alla Roma e Spinazzola che verrà da noi vi avevo detto che vi avrei fatto uscire un altro video, eccolo qua ragazzi, video in questione probabilmente avrete capito dalla miniatura con chi è che l'Inter ha quasi praticamente venduto perché sì ho coperto la faccia però si riconosce facilmente, il giocatore in questione è Gabigol ragazzi che in Brasile sta veramente facendo bene, l'accordo tra Gabigol e Flamengo c'è ormai già da tantissimo tempo è sempre mancato l'accordo tra il Flamengo e l'Inter per appunto l'acquisto definitivo di Gabigol al Flamengo perché ricordiamo che Gabigol è ancora un giocatore di nostra proprietà, l'Inter possiede ancora il cartellino del brasiliano è arrivata oggi la notizia, il Flamengo pare abbia offerto 18-20 milioni per l'acquisto a titolo definitivo di Gabigol e la richiesta dell'Inter è di 22 ragazzi per cui le parti sono praticamente vicinissime nei prossimi giorni speriamo si possa chiudere questo affare, perché dico speriamo? perché con i soldi di questa cessione ragazzi verranno subito investiti per portare Christian Eriksen già a gennaio perché ricordiamo che il Tottenham per liberarsene subito chiede 20 milioni per non perderla a 0 a giugno già domani ragazzi l'entourage di Eriksen, l'agente di Eriksen dovrebbe essere a Milano per discutere del contratto Eriksen negli ultimi giorni sembrava essere uscita la notizia in cui il danese aveva detto già sì alla proposta di contratto dell'Inter, poi è stata smentita, non lo so ragazzi io sapete come la penso sui giornali, escono certe notizie solo per fare qualche vendita in più è nulla ragazzi, resta il fatto che dovesse veramente succedere, se Eriksen dovesse veramente arrivare a gennaio adesso per 20 milioni sarebbe un colpo veramente, un gran colpo forse il miglior colpo dopo Lukaku, perché il miglior colpo dopo Lukaku dovesse arrivare Eriksen per 20 milioni già adesso a gennaio possiamo solo sperare che ciò accada perché Vidal sembrerebbe essere tramontato visto che anche qua notizia fresca, è stato esonerato nella serata di ieri Valverde che faceva quasi tutto per tenere Vidal, è arrivato un nuovo allenatore per cui Vidal ora è difficile che si possa muovere da Barcellona quando arrivo del nuovo allenatore per cui Vidal, ahimè, purtroppo tramonta un po' l'idea di vedere Vidal all'Inter adesso, probabilmente non lo vedremo neanche più perché o lo prendevi ora o non stai a prenderlo in estate per fare la prossima stagione secondo me per cui speriamo che questi soldi della cessione di Gabigol vengano investiti per portare Eriksen adesso a modo tale da avere un centrocampista top in più a centrocampo perché abbiamo visto nella partita con l'Atalanta ragazzi che è uscito Sensi e l'Inter ha smesso di giocare già c'era qualche difficoltà perché Sensi comunque appena rientrato al sessantesimo Sensi si vedeva che faceva fatica è uscito lui proprio l'Inter ha smesso completamente di giocare per cui serve assolutamente un centrocampista speriamo arrivi Eriksen speriamo che il sogno di tutti noi sia vero ragazzi io spero tantissimo che arrivi Eriksen speriamo ragazzi speriamo davvero speriamo davvero sarebbe veramente un colpo top un gran colpo nulla ragazzi adesso andiamo a vederci la partita Inter-Cagliari Live Reaction sarà online domani sul canale per cui rimanete aggiornati iscrivete se ancora non avete fatto attivate la campanellina fatemi sapere se con la cessione di Gabigol secondo voi se arriverà Eriksen subito io spero di sì ragazzi speriamo che arrivi perché ci serve ci serve tantissimo Christian Eriksen nulla ragazzi andiamo a vederci la partita speriamo di vincere e amala sempre